Il Verde Ranocchio è uno spazio gioco privato di Arca Cooperativa Sociale, autorizzato, accreditato e convenzionato con il Comune di Firenze, che si trova in via Monsignor Leto Casini in zona Gignoro. Il Verde Ranocchio accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi di età, da lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8-13 o 15-19, con moduli settimanali a 5, 4 e 3 giorni. Dall'ingresso addiviso ad accoglienza si passa ad un'ampia luminosa stanza di riferimento, suddivisa in due grandi ambienti appositamente pensati, dove si trovano l'angolo accoglienza, lettura ed incastri, l'angolo con la pedana per le costruzioni di vario tipo, l'angolo della traccia grafico-pittorica e l'angolo della merenda, con i tavoli e le librerie per i giochi cognitivi. Uno spazio particolare è riservato all'angolo del gioco simbolico, con la cameretta, i travestimenti e la cucina. Tanti oggetti di uso quotidiano come suppellettili, arredi, abiti e bambole, per giocare a far finta di. Un grande ambiente ospita la stanza del gioco motorio, con tappeti morbidi, cuscini, pedane inclinate, per comporre percorsi sempre diversi, che stimolino lo sviluppo armonico del bambino. Negli adiacenti locali del centro di documentazione di Arcalab è disponibile per i bambini del verde ranocchio il laboratorio della scoperta, con materiali naturali e di riciclo, oltre ad una ricca libreria. Al verde ranocchio i bambini dispongono di un ampio bagno, dotato di fasciatoio con scaletta e di panchina per chi attende il proprio turno. All'esterno sono disponibili due ambienti distinti, uno all'ingresso, pavimentato, con tavoli in legno e fioriere, e uno sul retro, con erba, dove ci sono la casetta, lo scivolo e il tunnel in legno. Tutti coloro che sono interessati alle iscrizioni per l'anno educativo 2020-2021 potranno scrivere alla mail ufficio iscrizioni chiocciola arcacop.it Vi aspettiamo!